Signori, finalmente siamo giunti al dunque dopo mille mila peripezie, in questo momento ci siamo dati da fare, quindi abbiamo ripreso Gloomhaven in mano con un solo interminabile tonnellate di scenari, tuttavia l'avevo lasciato andare forse un anno fa, quindi l'ho ripreso e siamo arrivati al boss finale, o meglio, ci sono anche tanti altri scenari, anche se ne ho fatti veramente un casino. Vorrei farvi vedere il mappone, guardate il mappone è veramente ricolmo di sticker in ogni dove e ho veramente fatto la maggior parte di tutti i scenari che potevo raggiungere e la prosperità ha raggiunto il valore 7, quindi abbiamo tutti i personaggini belli livellati e nel corso della storia ho fatto veramente una quantità di donazioni allucinanti per pompare un pochino la prosperità. E se andiamo a vedere l'interno della scatola si può notare la quantità massiccia che sono andato a pensionare, quindi questi personaggi li ho ben adoperati, hanno fatto veramente un ottimo servizio. Ora tornando al super mega boss che è davvero cazzosissimo, in realtà l'ho già sconfitto una volta a livello 0 perché sono andato di dirimpetto a livello 2 e mi ha massacrato a bomba, a livello 0 ce l'ho fatta, a livello 1 non lo so, vediamo. Che chiaramente è una bestia in male che fa un male boia più 9 attacco con lo special 1 e ha in questo caso 50 punti vita perché ci sono due personaggi, quindi veramente una botta di vita ed è praticamente immune a qualsiasi roba. Naturalmente questo è il team dei randelli nel culo che mi ha sempre fatto ridere però è bello possente come identificazione, la nostra reputazione è a livelli estremi quindi degli sconti per comprare equipaggiamento e quant'altro. E nella lista abbiamo il mitico sega ossa Pstvatrunt con 430 punti esperienza, il monetazze ne ha già raccolto un pochino, guardate già una bella dose di perk, livello 8 quindi già sul pompatino. E poi abbiamo Litz che è l'elementalista ovvero la prugna, la prugna perché ci stava, lui è entrato per ultimo ed è ancora a livello 7 comunque sulla via per fare un pochello di esperienza ma già una bella serie di perk perché si è portato dietro l'esperienza degli altri giocatori. E qua la formazione è preoccupante anche se siamo particolarmente equipaggiati, il sega ossa ottimo curatore, mena melì in maniera consistente e ha tutta questa serie di medipack che sono queste carte curative da consegnare agli altri personaggi con cura 4 o con cura 8. Mentre l'elementalista naturalmente ci butterà dentro un sacco di queste condizioni climatiche. Allora siccome siamo piazzati lì per bene con lo special 2 questo comincia a rimbalzare fra i luoghi e quando va a fare lo special 1 mazzula bene ha un attacco fisso di 5 più 9 insomma fa una strage. E nonostante tutto l'equipaggiamento l'elementalista purtroppo in quanto una sorta di maghetto ha ben pochi punti vita, ne ha 12 adesso a livello 7. Allora qua il sega ossa chiaramente questa carta per dare un large medipack naturalmente one shot, questa qua è da utilizzare. Poi abbiamo un po' di opzioni di cure e attacco che essenzialmente sono attacchi 4 molto standard, tutti gli effetti, disarme eccetera ormai sono inutili con il boss. Bisogna menare assolutamente le mani e vorrei utilizzare questa carta qui a un certo punto per dare un po' di shield all'altro personaggio che è in condizioni critiche. Io con lui giocherei subito queste due carte perché abbiamo un movimento quindi ci avviciniamo, diamo anche un medipack normale all'altro che è in adiacenza e poi spariamoci subito un bel attacchino. Con l'elementalista naturalmente ci sono un sacco di attacchi a distanza e un sacco di benefici dagli elementi che vanno a pompare enormemente i vari attacchi. Tuttavia bisogna prima generarli questi elementi, non mi metterei in adiacenza proprio per niente, per questa volta andiamo in adiacenza poi perché vorrei utilizzare questa carta che almeno butta all'interno già questi elementi. Allora noi siamo 17 e 10, vediamo il boss che cosa fa, va a fare un 30, un move più 0, un attacco più 0, fortunatamente non è uno special, vediamo un poco. Allora prima di tutto uso questa carta, un move 4, quindi con lui farei 1, 2, 3, 4, ci mettiamo già in adiacenza che inizia lì, iniziamo a menarlo bene. Ah tra l'altro prima mi muovo e poi do il medipack, quindi doveva iniziare prima lui, va bene, lo faremo un'altra volta. Poi andrò a fare un attacco 4 con un punto esperienza, andiamo a vedere il modificatore perché qua abbiamo anche un po' di maledizione, abbiamo un paio di blessing perché naturalmente abbiamo fatto la nostra donazione al santuario. Abbiamo un più 2 con un'altra pescata, abbiamo un più 1 con un immobilize, chiaramente è immune a questi effetti, quindi abbiamo un totale di 7 danni. Un move 4, shield chiaramente non c'è il ghiaccio e poi andiamo a fare questo attacchino con un punto esperienza, naturalmente la carta è persa, andiamo a vedere il nostro modificatore e abbiamo un più 1 con il wound, però è immune. E quindi spariamo altre 5 legne allo sporco e naturalmente abbiamo il nostro punto esperienza, abbiamo per vaso l'aria di fuoco e di vento. Ah, dimenticavo che alla fine di ogni nostro turno perdiamo 2 punti vita. A questo punto turno del cattivone, quindi andrà a fare un move, naturalmente non si muove perché è già in adiacenza, chi attacca quello che ha agito per primo nel turno, quindi il sega ossa qui. Allora fa un attacco di 5, vediamo un pochino, meno 2, ti è, ti sta benissimo. Utilizzo il mio tower shield per fare uno shield 2, inoltre ho questa armatura qui, ho questo numero limitato di volte, però vado a generare uno shield 1, quindi vado a bloccare tutti i 3 danni. Ok, a pensarci bene, era meglio che l'elementalista si muoveva in adiacenza dell'altro personaggio, a meno possiamo fare questo scambio di carte di medikit, quelle balle lì. Allora farò in questo modo, quindi piazzerò questa carta nell'area attiva dell'altro giocatore, così ha uno shield 1 permanente, 2 punti esperienza, e poi andiamo a fare un attacco 5 con un disarm, naturalmente non ci interessa, un punto esperienza, e vediamo un pochino dove andiamo. Abbiamo un attacco 5 più un wound che ce ne fotte perché è immune a tutto, abbiamo un più 2 con ripesca, non male, e abbiamo un refresh, quindi, oh, perfetto. Quindi posso ripristinare la mia tower shield, abbiamo un totale di 5, 6, 7 danni. È il turno dell'elementalista, quindi sicuramente un movimento, ci allontaniamo e facciamo un attacco range di questo tipo, andando a pompare un attimo con la foglia. Allora, ci distanziamo di 3, poi facciamo un attacco 4, range 4, andiamo ad utilizzare una foglia per un più 1 attacco. L'immobilasi, chiaramente queste robe le ignoriamo, ma un punto esperienza. E quindi abbiamo un attacco 4 più 1, 5, più 2, 7. Altri 7 danni al porco. Allora, attualmente ha 26 danni su 50 punti vita, tuttavia non è ancora attaccato seriamente. A proposito di attaccare seriamente, abbiamo uno special 1, quindi farà un move, naturalmente è già in indecenza, non si muove, e fa un attacco 5 più 9, boia faus. Quindi un potenziale di 14 danni, più 0, ok? Però 14 danni sono veramente insostenibili. Quindi io direi che vado a rimuovere una qualsiasi carta per scongiurare qualsiasi tipo di danno, perché così è devastante. Quella carta andata, naturalmente il fuoco l'ho usato, a fine turno scendono anche gli altri elementi, e ci becchiamo, come al solito, due ferite a testa. Procediamo con un nuovo turno, sega ossa, molto lento, andiamo a 62, ma qua voglio muovermi anche un pochino a caso, ma dare una curatina all'altro giocatore, e fare un attacchino melì che va sempre bene. Mentre qua direi di andare in adiacenza dell'altro personaggio, con un move, e poi dare un retaliate all'altro, e fare una bella attacchino range 2, quindi ci dobbiamo spostare, e vediamo anche la velocità, ma non siamo così lenti. Vediamo il tizio come agisce, un 52, ok? Con un move meno 1 e un attacco meno 1, ma target 2, quindi siamo tutti in pericolo. Anche se mi muovo di meno, ma abbiamo un retaliate 1 per il resto del turno. Tuttavia il retaliate a questo punto è inutile, perché lui farà un attacco a distanza. Poi ci pompiamo un attimino questo attacco 5 range 2, siamo in range, non posso pompare purtroppo l'attacco, anche se non è un'armatura per il piercing. Vabbè, un attacco 5. La maledizione qua incombe, perché ho sempre paurissima di queste robe qui. Questa qua è la benedizione. La benedizione che chiaramente viene rimossa dal gioco, però intanto ci ho sparato 10 danni. Allora, poi agirà lui, perché ha un 52, farà un move meno 1 e ha un move normale di 2. Quindi praticamente si allontana di uno spazio. Poi range 3, ha 2 target, quindi sparerà a tutti e due. Ed è un attacco meno 1, quindi abbiamo un 4 di base. Il sega ossa. Sega ossa, un bel più 1. Ok. Quindi fa un totale di 4, 6 danni. Allora, 6 danni sicuramente utilizzo lo shield 2. Ok. E utilizzo questo qua automatico, questa armatura. Quindi mi pare un totale di 3 danni, mi fa solo 3 danni. E attacca anche l'elementalista, quindi abbiamo un 4 di base, più 0. Un bel 4 danni. Tuttavia ho questo shield qui. Mi consente una shield 1 e un retaliate 2. Naturalmente non è possibile, perché non è in adiacenza. Però almeno mi scongiuro un danno. E quindi mi fa solo 3 legne. E naturalmente abbiamo i due danni canonici alla fine di ogni singolo turno. Allora, siccome lui si è mosso con l'altro signorino, quindi andiamo a muoverci di 4. E una cura 3 a range 1. Ah, porca miseria. Non ci arriva con il range. E dice, porca miseria, che schifo. Vabbè, si muoverà qui. Anzi, no. Ma no, ma ci sta, dai. Allora, move, arriva in adiacenza. Ho confuso i personaggi. E va a curare tra l'altro ragazzo. Poi siamo in adiacenza. Ci buttiamo un 4 danni con Immobilize inutile. E un punto esperienza. Quindi sono un totale di 4 danni. E ci buttiamo dentro un più 1. Benissimo. Quindi beccati ste altre 5 legne. Siamo a 41 danni contro lo sporco. Benissimo. E non dimentichiamoci di perdere i due punti vita canonici alla fine di ogni singolo turno. Allora, vediamo che cosa fare. Allora, lui, l'elementalista, purtroppo ha solo 4 punti vita. Quindi andiamo ad utilizzare la Super Healing Potion, che l'ho tenuta proprio per questi momenti durissimi, con una cura 7. Quindi curiamoci questi 7 danni. Mentre con lui vorrei utilizzare una Major Stamina Potion, che ci consente di recuperare fino a 3 carte scartate. E naturalmente voglio riprendermi tutte le carte e gli attacchi Meli, che ho utilizzato fino ad adesso, così continuiamo a mazzularlo per bene. A proposito di queste condizioni, giochiamo queste due carte. Di nuovo un attacco fisico di quelli brutali. E poi giochiamo questa carta, che l'andrò a dare all'altro giocatore, per fare una curata. Quindi può curarsi costantemente e evitare anche il danno costante che fornisce il tizio alla fine di ogni turno. Vediamo un pochino. Allora qua ho chiaramente gli elementi non sono ancora usciti, ho chiaramente un sacco di carte nel modificatori che buttano dentro questi elementi, ma non sono arrivati. Non mi avvicinerei a Meli, ma starei comunque sulla distanza. Oppure potrei... Ah, perché non sfoderare un doppelganger, giustamente? Quindi facciamo questa evocazione e poi tirerei questo danno un pochino scarso, ma va bene così. Quindi un 29, un 48, vediamo lui che cosa fa, farà uno special 2, 14, molto rapido! Quindi con lo special 2 lui che cosa fa? Andrà a teletrasportarsi sul punto A, poi sul punto B, sul punto C. Cerca di sgattaiolare in questo modo e va a fare un attacco più 1, range 5, 1, 2, 3, 4. In realtà chi è più veloce in questo turno è il sega ossa, quindi andrà su di lui con un attacco più 1, poison, wound, stun, tutte queste balle qui. 6 e meno 1, 5. Ricordiamoci che ho pur sempre la mia armatura costante, quindi qua ho un... Mi proteggo un danno, quindi sono 4 danni. In più che cosa mi dà? Un poison, wound e stun. Però con questo elmo sono almeno immune allo stun. Però mi becco un wound e un poison. Allora con lui avevo programmato queste carte per un attacco ravvicinato e questo. Invece mi sa che farò esattamente il contrario, quindi un attacco a distanza 5, 3, perché siamo in range. Ok? E farei una cura 5. E mi becco anche due punti esperienza. Allora prima di tutto mi faccio una cura 5, quindi vado a 8. Poi vado a fare questo attacco 3, a range 5. Quindi da qui 1, 2, 3, 4, ci arrivo benissimo. Vediamo. L'altro più 2 del Sega Osso, vedi che può unparlo bene. Grandissimo livello 8. E ci spariamo direttamente un 7 danni. Ok, praticamente è a 48 danni. Gli ne mancano due. Allora, proprio per stare sul sicuro. Anche con il Sega Osso direi di fare una Major Healing Potion. E ci curiamo di altri 5 punti. Ah, avrei potuto usare questa Major Power Potion per raggiungere più due attacco. Però vabbè. Però a questo punto dobbiamo muoverci. Non andrei a evocare questo punto del game. Farei movimento. Facciamo un movimento 3. 1, 2 e 3. E poi facciamo questo attacco 2 a distanza 3. Dai ragazzo. Dai ragazzo. Più 1. Più 1. Cazzo. Allora. Quindi sono 3. Più 1 danni. E volendo. No, qua perché non abbiamo alcun elemento. Ho anche questa cosa bellissima qui. Che è costata un casino. Che mi consente di spendere un qualsiasi elemento per raggiungere più 1 all'attacco. Ma comunque sia è sufficiente. Perché gli faccio 3 danni. E va a 51 ferite. E direi che è mortissima. Comunque è andata meglio di quanto avevo pronosticato. Mi è andata bene. Mi è andata bene con il modificatore. Perché la prima volta anche a livello 0 è stato drammatico. Perché ho tirato fuori tutte le maledizioni. E vedi. C'erano le maledizioni verso il fondo. Però i per 2. Le benedizioni. Ne ho pescata una. Ma erano verso il fondo. Comunque qua avevo già un bel mazzo. Vedete con tutti. Buttava dentro gli elementi. Queste robe qui. Ho fatto delle belle pescate. Direi che è un pochino di culo. A volte non è male. E quindi. L'ho spappolato per bene. E adesso magari lo possiamo anche provare a livello 2. Poi livello 3. E così via. E intanto continuerò con le sub quest. Queste robe qui. E bom. Aspettiamo il Frost Heaven. Che sarà in dirittura di arrivo fra forse un anno. Comunque sia. Non vedo l'ora di percepire il seguito. Tra l'altro nel corso della storia ho percepito anche questi envelope. Di cui il mistero all'interno è davvero ostico. È davvero un po' un puzzle. Ma proprio tiratissimo. Non è tanto soddisfacente. È veramente cervellotico. E poi invece. Per quanto riguarda i town records. Sull'ultima pagina. Adesso non ve lo faccio vedere. Ma chi l'ha finito. Chi è arrivato al fondo. Che cosa significa? Che cosa significa quello che c'è al fondo? È un qualcosa che è comprensibile adesso? O bisogna attendere il seguito? Va bene. Comunque sia. Questa qui era il boss finale. E ci vediamo. Nel prossimo gioco. Iiii.